Conte aggredito da un folle, da un folle direi, oppure da un attivista Novax che invece di essere folle è un delinquente, perché sicuramente prendere a schiaffi una persona che sta facendo un'iniziativa è una cosa grave. E devo dire bene la solidarietà che è stata espressa da tutti, e devo dire che ci mancherebbe, dalla Presidente del Consiglio, dagli esponenti del PD, dai Presidenti delle Camere. E' gravissimo ciò che è successo, cioè Conte è stato schiaffeggiato, ma oltre la solidarietà, che mi sembra un atto dovuto da parte di tutti, perché è assurdo che mentre uno sta facendo un'iniziativa elettorale, perché Conte era a massa, non a passeggio per conto suo, era a massa per fare il suo compito di leader del Movimento 5 Stelle ed è andato a fare un'iniziativa elettorale dove un personaggio si è avvicinato e l'ha presa a schiaffi. Questo è intollerabile, è intollerabile ma pone un altro problema che è quello della sicurezza. Quindi ho detto bene la solidarietà e sono contento che il Ministro dell'Interno ha pensato di chiamarlo subito, ma dobbiamo stare attenti a garantire la sicurezza, perché in un clima di insulti, di attacchi, quando Conte, soprattutto sulla vicenda da questi Novax, viene fatto oggetto di attacchi continui, ed è una cosa indecente, perché voi pensate che Conte viene convocato in tribunale perché lo accusano addirittura di aver fatto troppe e poche restrizioni, mentre invece questi squinternati lo attaccano dicendo che ha fatto troppe restrizioni e che ha fatto il suo dovere, perché era il suo dovere. Se le autorità sanitarie italiane e internazionali chiedevano di fare i vaccini, è evidente che Conte doveva adempiere al suo dovere e il suo lavoro, sia delle restrizioni sia di altre cose, è stato un lavoro fondamentale per evitare disastri maggiori, perché il Covid è comunque stata una botta esagerata in tutto il mondo, non solo in Italia, e quindi Conte è stato bravo. Quindi la mia cosa è, grazie della solidarietà e condivido, io sono stato uno dei primi a esprimere, l'ho espressa pubblicamente anche sulle agenzie di stampa, perché credo che questo è il primo gesto, però il governo in particolare ha un compito in più, ed ha un compito di assicurare la sicurezza, di garantire la sicurezza di un leader politico e tra l'altro è stato già anche premier del nostro paese. Quindi io sono convinto che lo faranno, ma bisogna vigilare. E soprattutto anche tutti quelli che sostengono Giuseppe Conte siano sempre molto attivi nel rintuzzare anche sui social le vergognose aggressioni contro una persona che ha lavorato nell'interesse del paese. Assolutamente. Una indecenza gli attacchi a una persona per bene, che era all'inizio della sua attività, perché lui è iniziato nel 2018 a fare il Presidente del Consiglio, si è trovato alla pandemia e ha fatto, secondo l'opinione di chiunque non abbia un pregiudizio, cioè quindi non persone di destra e di sinistra dicendo, No. Chiunque ragioni, senza pregiudizio, può contestargli altre cose, gli possono piacere alcune cose, alcune no, ma è indiscutibile che ha cercato di lavorare, ci ha messo la faccia per cercare di limitare i drammi della pandemia. Quindi, grazie a Giuseppe Conte, va detto, grazie, e soprattutto un appello al Governo perché il Governo prenda in carico la sicurezza, perché è un bene prezioso, soprattutto perché sono periodi di campagna elettorale. Cioè Conte continuerà a girare in questi giorni, nei prossimi giorni, per fare la campagna elettorale in vari posti d'Italia, perché voi sapete che il 14 e il 15, il 14 che è domenica e il 15 che è lunedì, perché poi in Italia ogni tanto si cambia, si voterà in molti comuni, molti sono anche capoluoghi, io sono stato personalmente per esempio a Brindisi a sostenere e incontrare un bravissimo candidato, scelto tra l'altro proprio da Conte una volta per un unuminale. Ora, suggerito come candidato unitario di tutti i progressisti, e devo dire una bravissima persona, si chiama Roberto Fusco, io chiedo a tutti quelli che hanno parenti, amici, conoscenti a Brindisi, è molto importante votare le persone per bene. Allora, Conte sta girando in tutta Italia perché sostiene le candidature dei vari candidati del Movimento 5 Stelle o delle coalizioni, dove appunto tutta la coalizione, come succede a Brindisi, sostiene un candidato. Allora, va fatta una tutela, poi dopodiché inizieranno le elezioni del Molise, e in Molise abbiamo anche là un bravissimo ragazzo, dico ragazzo perché è giovane, Roberto Gravina, che è il sindaco di Campobasso e che è stato candidato a presidente del Molise da una coalizione basta, che comprende il Movimento 5 Stelle ed è stata appoggiata anche dalle formazioni di sinistra, liste civiche, dal PD, credo ci sarà anche qualcosa in più. Allora, è importante che poiché si girerà per campagna elettorale fino alla fine di giugno, perché le elezioni in Molise sono alla fine di giugno, ci sia la massima vigilanza e in particolare attorno a Conte, che come dice giustamente chi è questo Engi, ha detto Conte e ovviamente è stata fatta una gogna mediatica molto forte e quindi ci sono quegli squinternati che quando sentono quelli che lo attaccano. Pensiamo alle frasi assurde dette da Renzi, da Calenda contro Conte, che rischiano di stimolare menti deboli che poi vanno gesti inconsulti. Ora, in questo caso è un gesto per fortuna non determinante, ma è pericoloso perché si parte con la violenza di uno schiaffo e non si sa dove si arriva quando inizia questa pazzia di considerare normale aggredire un avversario o una persona che la pensi personalmente a te. Questo è intollerabile ed è una cosa che non si può consentire a nessuno. Quindi, giusta la solidarietà di tutti, massima vigilanza e soprattutto anche un po' di onestà intellettuale. Cioè, riconosciamo che uno può avere un'opinione diversa da Conte, magari a te non ti piace il salario minimo. Va bene, io sono favorevole al salario minimo, come lo è Conte, altri sono contrari, è un dissenso. Ma sulla pandemia, sul fatto che servivano le restrizioni per cercare di evitare a questo Paese il disastro che ha vissuto l'Inghilterra, dove Boris Johnson diceva che non bisogna fare niente, che ha vissuto il Brasile, dove Bolsonaro ha fatto morire milioni e milioni di brasiliani più di quello che sarebbe accaduto con una normale gestione del Covid, allora prendiamo atto o meno che sul Covid ha lavorato bene Conte. E che diamine? Almeno questo, un minimo di decenza, un minimo di decenza e di onestà intellettuale. Poi si può avere opinioni diverse su come si risolvono i problemi. Io voglio le rinnovabili, altre vogliono il nucleare. Secondo me il nucleare è una follia, le rinnovabili... Però io non è che vado e prendo a schiaffi uno che dice che è per il nucleare. È chiaro? Cerco di convincere, cerco di fare il possibile con dei ricorsi, eccetera, per paralizzare delle scelte che non condivido. Ma non vado a prenderle a schiaffi. Chiaro? Allora, noi dobbiamo fare in modo che, dice Viviana, un gesto escogitato per arretrare e demotivare, ma mi sembra che Conte non sia né demotivato né arretrato. È stato anche molto bravo nel rispondere, come dire, in modo, col sorriso, a un gesto pessimo e dicendo che quando si riveste un incarico pubblico è chiaro che tu puoi non scontentare tutti. Ma è normale, si chiamano anche partiti politici perché sono parti, non solo l'insieme. Quindi ci sta. Solo il Presidente della Repubblica dovrebbe essere quello che rappresenta l'unità della nazione e non dovrebbe avere, come dire, scelte... Eppure quello nasce con una scelta politica. Quindi ci sta. L'importante è che il dissenso sia esercitato in modo serio e democratico. E poi parliamo invece delle elezioni, sempre delle elezioni. Perché? Ma perché c'è una cosa gravissima. Oggi ci sono i dati, di noto sondaggio mi sembra, che dice che ci sono 5 milioni di italiani, circa, fuori sede. Cioè persone che studiano lontani dal luogo di residenza o che lavorano lontani dal luogo di residenza. Bene, è assurdo che questi cittadini non possano votare per le elezioni locali o le politiche o le europee anche nel luogo dove si trovano a lavorare o a studiare. Basta! Siamo nel 2023. Addirittura si dovrebbe poter votare addirittura online, con lo speed, con tutti i riconoscimenti, con tutte le certezze. Ma il diritto di voto è garantito a tutti. Ostacolare l'esercizio è contro la Costituzione. Lo dico perché la destra, stranamente direi, stranamente, la destra stranamente, o non stranamente, è contraria alle proposte di legge dei 5 Stelle e del PD che vogliono garantire il diritto di voto ai fuori sede. Ma perché? Perché la destra preferisce all'astenzione, perché ha vinto bene adesso che la gente non è andata a votare, perché preferisce che le persone non votano, perché hanno povero del voto. Eppure, questi 5 milioni di persone non è che sono tutte persone che voterebbero 5 Stelle o PD, perché tra quelli che stanno a votare fuori c'è persone che hanno le opinioni più diverse, più disparate. E ogni sondaggio dimostra esattamente questo. Quindi non è il fatto che loro vogliono, come dire, in qualche modo hanno paura che questo favorisca altri. è un'ostilità gravissima a un principio logico che è quello di aumentare la possibilità per gli elettori di votare. Quindi è una scelta, quella della destra, di bloccare il voto ai fuori sede, una scelta sbagliata, antidemocratica, che denota la paura dei cittadini elettori. È la paura dei cittadini elettori. Quindi noi dobbiamo fare in modo di dire a tutti i fuori sede, anche se ancora non cambia la legge, che devono andare a votare, perché è assurdo che gli vogliano privare del diritto al voto. Ma poi dobbiamo aiutare le forze politiche che stanno a cominciare dai 5 Stelle, da Conte, che l'ha detto più volte, che vogliono garantire il diritto di voto a quelli che lavorano o vivono fuori. Perché se è chiaro che loro, per motivi di lavoro o di studio, non possono farlo nella propria città? Ma perché dovrebbero essere privati del diritto di eleggere i rappresentanti della propria comunità? Ma questo è indecente. Ma voi avete visto quante persone in tutto il mondo, gli americani all'estero votano per il Parlamento americano, gli inglesi all'estero votano presso le ambasciate per il Parlamento americano, si vota addirittura quando stanno all'estero. E figuriamoci, a maggior ragione, dobbiamo poter votare nel nostro Paese. Quindi è assolutamente essenziale. E perché è fondamentale? Dice bene Antonio, io ho sempre votato, anche se avevo schifo a farlo, ma il mio diritto non deve essere svenduto. Bravissimo, è così. Perché guardate, il momento del voto è l'unico momento in cui tutti... Cioè, Berlusconi, uno degli uomini più ricchi d'Italia, ma quando va a votare ha un voto. Chiunque dei più poveri del Paese quando vanno a votare ha un voto. E' uno dei momenti in cui, come dire, la democrazia permette che siamo tutti sulla stessa... Uno vale uno. Ecco, vi ricordate il vecchio slogan che poi era stato mal interpretato come se la competenza di uno fosse uguale? È chiaro che se io devo farmi un'operazione vado dal chirurgo e non vado dall'avvocato. Quindi uno non vale uno in termini di competenza. Ma in termini di democrazia, la democrazia è che quando vai nelle urne tu hai tutti quanti hanno un solo voto. Ecco perché va tutelato, va incoraggiato, vanno aiutate le persone a poter esercitare... Scusate, ho preso un po' di freddo a furia di andare in giro giù a Brindisi, poi fa caldo, fa freddo, questo tempo è diventato ovviamente un po' un casino. Però, insomma, sopravviverò anche a questo. Allora, vi dicevo, c'è questa necessità e c'è questa possibilità per... La destra fu denunziata nel 2005 per farsi fatta la propria Costituzione? Vabbè, sì, sì, no, ma in realtà ci sono tantissime stranezze e quindi noi dobbiamo insistere sul fatto che si possa andare a votare presso dei seggi, dei seggi eccetera, magari seggi speciali, per tutti coloro che sono fuori sede. Oppure si inserisce il diritto di voto postale. Vi ricordate quanti paesi si fa il voto per posta? È ovvio che devi... In un paese come l'Italia dove la truffa e la furbizia è sempre, come dire, è sempre all'angolo di ogni buona intenzione, intenzione, è chiaro che dobbiamo lavorare per essere attenti a che non ci siano imbrogli, però i modi in tutto il mondo ci sono modi per far votare chi è fuori sede e garantire ugualmente che il voto sia libero, segreto e che quindi non ci siano truffe. Possiamo farlo? Sì, un grande paese industriale che ha capacità, che ha la capacità di usare il digitale lo deve fare. E poi c'è il presidenzialismo. Che ne pensate di quest'altra cosa? La Meloni ha iniziato a fare un giro di consultazioni delle forze politiche cioè perché vogliono fare il presidenzialismo. Cos'è il presidenzialismo? Presidenzialismo è l'elezione diretta dal Presidente della Repubblica che è una cosa che di per sé esiste in alcuni paesi. Gli Stati Uniti eleggono non proprio direttamente perché sapete che negli Stati Uniti eleggono prima i grandi elettori poi quelli eleggono tant'è vero negli Stati Uniti già una volta Trump ha vinto avendo meno voti del Presidente e del candidato americano ma avendo vinto nelle zone più utili. Quindi direi direi che è una cosa complicata stabilire che andiamo verso il presidenzialismo. Perché? Perché in Italia cosa può significare? Noi non abbiamo i contrappesi i contrappesi significano che non abbiamo sistemi di controllo beri sul conflitto degli interessi eccetera cioè se ci fosse stato il presidenzialismo Berlusconi con tutte le televisioni a disposizione sarebbe stato Presidente della Repubblica senza nessun contrappeso da parte del Parlamento e di alcuni Presidenti e del Presidente della Repubblica in Italia il Presidente della Repubblica svolge il ruolo di garante per evitare che ci sia un eccesso di potere o ci siano delle storture rispetto alla Costituzione se invece noi mettiamo insieme il presidenzialismo senza avere regole come c'hanno altri paesi senza avere contrappesi e vedendo che il presidenzialismo stesso va molto in crisi in Francia il Presidente della Repubblica senza maggioranza in Parlamento ha fatto una riforma delle pensioni con un decreto scavalcando addirittura il Parlamento dove la maggioranza non è dalla sua parte e facendo esplodere una protesta che sta facendo feriti sta bloccando il paese perché? perché è chiaro che viene vissuta come una violenza e quindi non è una cosa buona cioè la Francia col presidenzialismo ha avuto una serie di problemi che pensava di risolvere e che invece pian piano si stanno invece stanno invece aumentando quindi l'altro tema è che con questa legge elettorale che fa schifo e fa cambiato a prescindere manco ci vuoi pensare a pensare al presidenzialismo allora poi che è successo arriva Renzi e annuncia che lui andrà dalla Meloni a dargli una mezza stampella perché vuole il sindaco d'Italia ma che cos'è questo sindaco d'Italia? allora il presidente della Repubblica resta eletto così e si elegge quindi e si fa un'indicazione sul premier vediamo ma con quale legge elettorale con la legge elettorale a doppio turno con la possibilità dei cittadini di scegliere la coalizione a doppio turno e poi con le preferenze o no perché non è che noi parliamo di massimi sistemi e non guardiamo quello che è accaduto negli ultimi dieci anni negli ultimi dieci e più anni perché già dal 2006 e 6 le elezioni fatte con il porcellum fatto da da Calderoli noi già abbiamo avuto il primo caso in cui gli eletti sono stati eletti perché erano messi in una lista senza nessuna possibilità per il cittadino di scegliere io lo ricordo perché sono stati eletti nel 2006 quando dovemmo comporre le liste pensavamo che i cittadini prestassero attenzione almeno ai capi lista e quindi almeno nel 2006 cercavamo anche io ma tutti hanno cercato di mettere dei candidati credibili poi cosa si è visto che il cittadino andava là barrava solo il simbolo del partito e manco vedeva perché poi non erano scritti neanche vedeva i candidati quindi che è successo già nel 2008 e poi è peggiorato sempre di più abbiamo avuto tranne qualcuno che cercava di rispettare delle regole io per esempio avevo dei criteri per ispirare la scelta dei candidati a un certo punto in Forza Italia che era un partito addirittura personale ma anche pian piano negli altri si è affermato il principio di mettere quelli che tu riteneri più utili vicini al segretario del partito al capo del partito senza nessuna possibilità per i cittadini di fare altro e quindi io penso io penso assolutamente che dobbiamo da una parte cambiare la legge elettorale fa schifo e io vi sollecito a sollecitare vi sollecito a sollecitare contro il Movimento 5 Stelle a prendere loro l'iniziativa di un referendum popolare perché è l'unica cosa che si può fare secondo me se no non la cambiano non la cambiano poi nel modifica voglio dire che la modifica quelli vogliono fare la modifica della Costituzione per fare il presidenzialismo capito quindi quando vi dico che è delicato il tema è delicato perché loro vogliono cambiare la Costituzione la destra introducendo le elezioni dirette del presidente poi dopodiché questo presidente che fa che compiti ha è onnipotente è solo una figura di rappresentanza come Mattarella solo che le legge il popolo ma se anche è così poi che viene eletto dal popolo poi non diventa il presidente una figura che cerca di prendersi dei poteri che non sono propri cioè voi noi siamo in Italia abbiamo visto che le elezioni diretta dei presidenti delle regioni avete visto le elezioni dirette allora in che si sono trasformati o in presidenti che arrestano un'eternità o in presidenti che si sentono una sorta di come dire governatori onnipotenti locali durante la pandemia addirittura ogni presidente aveva una sua strategia ma noi possiamo sfasciare l'unità nazionale da una parte con l'autonomia differenziata di Calderoli che ha già fatto la legge porcata elettorale e ora vuole fare la riforma porcata costituzionale e poi dall'altro lato vogliamo mettere un presidente della Repubblica che rischia di trasformarsi in questo paese in quella che possiamo chiamare deriva sudamericana perché vi dico questo? perché gli Stati Uniti d'America hanno il presidente eletto dal popolo né tutti i paesi del Sud America ed anche del Centro America perché il primo è stato il Messico hanno spesso adottato come modello il modello americano facendo lezioni dirette al presidente o in tutti i paesi latinoamericani pressoché il presidenzialismo si è tradotto per decenni in un sistema sostanzialmente autocratico e poco democratico adesso finalmente in alcuni paesi c'è una maggiore attenzione maggiore libertà ma i contrappesi mancano non è la tradizione di una cultura latina nelle culture dei nostri paesi c'è una ma forse anche un'aggressività maggiore non lo so adesso poi è peggiorato quello americano perché per gli americani alla fine poi si sono trovati Trump e si è capito che l'elezione diretta del presidente senza contrappesi ti può portare un presidente che addirittura diventa un pericolo dice Angela che la premissa è comportante come presidenzialista e a maggior ragione allora evitiamo che si fa il presidenzialismo con l'elezione diretta perché adesso il premier italiano è un primus come si dice con un latinismo inter pares significa che è una persona che è allo stesso livello dei ministri ma è il presidente del consiglio di ministri in Italia per esempio il presidente del consiglio non può revocare i ministri li può nominare anzi il presidente del consiglio propone in Italia al presidente della repubblica alla nomina del ministro il presidente della repubblica gli va bene lo accetta poi giurano avanti al presidente della repubblica sia la presidente il o la presidente del consiglio e i vari ministri se un ministro fa delle attività che non sono condivise non può essere evocato dalla premia c'è una procedura complicata di sfiducia parlamentare che addirittura è complicata ma io devo dire su alcune modifiche tipo quella che si chiama in gergo il voto di sfiducia costruttiva sono d'accordo cioè che quando in parlamento tu hai un governo perché questo governo venga sostituito devi costruire un governo alternativo ci sta ci sono norme che hanno un senso ma il presidenzialismo in Italia con poche leggi dispettate male sulla par condicio altro che par condicio ci sono alcuni che hanno un grande potere e gli altri hanno pochissimo come fa un cittadino qualsiasi a poter partecipare alle competizioni e poi il rischio che noi non abbiamo un sistema adeguato che permetta di evitare che un presidente diventi un dittatorello questa è la realtà o peggio ancora un dittatore vero quindi siamo attenti io sono convinto e l'hanno detto che il 5 Stelle e il PD andranno sulle barricate e saranno contrarissimi in ogni caso io sono dell'opinione che si deve arrivare poi a un referendum per il cambio della Costituzione nel quale bisogna far capire che il rischio è la dittatura in un paese come l'Italia purtroppo quindi l'Italia ha un sistema di contrappesi per ora garantiti da questa Costituzione e con tutta questa Costituzione abbiamo chi se ne approfitta e a volte fa scempio della Costituzione quindi procediamo con questo poi oggi avete visto la incoronazione credo molti in telegiornali del nuovo re inglese vi ho scritto che ho scoperto che il direttore d'orchestra è di origine italiana quindi siamo anche nei grandi luoghi dove si fanno i grandi eventi l'Italia resta un paese forte il bel paese del made in Italy e devo dire una delle cose positive che sentivo è che hanno cercato di usare tutto ciò che si può riciclare quindi quantomeno l'anziano re inglese avrà almeno l'attenzione maggiore all'ambiente e questo resta il grande tema perché il tema è che la lotta al cambiamento climatico o prende una grande svolta o noi mentre parliamo di tutte queste cose marciamo verso l'estinzione e questa è pura follia quindi con questo che non vuole essere una cosa catastrofista ma vuole essere un invito a tenere sempre presente il grande tema dei temi dobbiamo rispettare madre terra dobbiamo rispettare la natura che ci circonda se non lo facciamo noi rischiamo una situazione difficilissima e catastrofica quindi io vi prego sempre di essere attenti a quella che io chiamo la sfida ecodigita la transizione ecologica e digitale che significa cerchiamo di ridurre il nostro impatto negativo l'inquinamento su questo pianeta e i gas climalteranti e cerchiamo di vivere il più possibile in armonia che significa con modernità e con intelligenza senza invece essere sempre arroganti e presuntuosi come il genere umano è stato in moltissimi casi un saluto carissimo aderite al gruppo ecodigital verso il 2050 e vi ricordo anche che lunedì a Napoli ci sarà un bellissimo evento sul turismo ecodigital che potrete seguire dalla mattina alle 10.30 in diretta su Radio Radicale di che ci occupiamo? Ci occuperemo con il sindaco di Napoli con il rettore con professori universitari ma con decine e decine di studenti delle facoltà di turismo di come il turismo deve essere gestito bene perché sia sostenibile e digitale perché Napoli proprio in questo periodo poi anche il piacere dello scudetto ovviamente ci ha messo il suo e siamo contenti perché è una cosa importante ma prima ancora dello scudetto Napoli era pienissima di troppi troppi turisti che a volte iniziavano a fare code di ore ore per qualunque cosa invece dobbiamo programmare il turismo a Venezia a Firenze a Roma a Napoli nelle Cinque Terre a Capri nei bellissimi posti del nostro paese perché l'Italia è il bel paese definizione inventata da Dante e da Petrarca quindi una definizione che è di secoli e secoli fa ma è il bel paese se non viene distrutto dal mal governo da un lato e dalla cattiva gestione dei flussi anche economici intelligenti che dobbiamo invece fare in modo di realizzare chi vuole partecipare all'evento di lunedì a Napoli ovviamente ha la possibilità sul sito Fondazioni Verde di scrivere c'è anche un Eventbrite dove ci si può registrare e poi si può guardare su come vi ho detto su Radio Radicale che farà la diretta streaming vi saluto buon sabato sera a tutti ciao ciao